E questa sera la nostra rivista Il Mondo incontra o rincontra, perché lo abbiamo già avuto sulle pagine del nostro sito un importante e famoso esperto del mondo del calcio, analista De Andreis, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Grazie davvero. Allora, quest'Italia, partiamo da questo, questa nazionale italiana agli europei. Un po' una delusione, diciamo, possiamo dirlo. Partiamo da un punto molto dolente, quindi. Sì, devo dire, io ero fra l'altro tra quelli che erano piuttosto ottimisti, devo dire, perché pur non essendo mai stato veramente uno spallettiano, però ero convinto che dopo quello che Luciano Spalletti ha fatto con il Napoli e considerato che io penso che la squadra che avevamo quest'anno non fosse inferiore a quella del 2021. Ero convinto che l'Italia potesse, non so, quantomeno raggiungere le semifinali. Dire la sua, diciamo, ecco. Sì, ero abbastanza ottimista e sono rimasto molto deluso. Devo dire, dopo la prima partita rimanevo abbastanza ottimista, perché per quanto l'avversario, l'Albania, fosse piuttosto modesto, l'Italia aveva fatto vedere qualche interessante trama di gioco, soprattutto nel primo tempo. Però devo dire che la partita, cioè tutte e tre le altre partite, sono state estremamente deludenti e non è tanto uscire agli ottavi di finale o uscire contro la Svizzera o non vincere contro la Croazia, ma è il come. Era una squadra che non passava la linea di metà campo, cercava di fare una costruzione dal basso che non ha mai funzionato. In particolare, devo dire che contro la Spagna l'Italia ha fatto gli stessi errori che aveva fatto Ventura, proprio contro la Spagna, quando non riuscì a centrare la qualificazione mondiale. Cioè cercare di fare la costruzione dal basso contro una squadra che è maestra di questo tipo di gioco e che fa un pressing alto che ti mette sempre sotto pressione. Quindi cercare di costruire contro questa Spagna, secondo me, è stato veramente un grave errore. Quindi bisognava giocare sulle seconde palle, magari? Dovevamo, esatto. Secondo me il modo giusto di affrontare la Spagna è quello che fece l'Italia di Conte, che fra l'altro secondo me non era superiore a questa, perché l'Italia di Conte, che era 2016 mi pare, batte il Belgio e la Spagna facendo l'Italia, cioè grande grinta, grande arguzia tattica in difesa e contro piedi veloci. e giocavamo con Pellè, con Zazza, che con tutto il rispetto buoni giocatori, ma non sono dei fuori classe, non sono superiori a quelli che avevamo quest'anno. Quindi io credo che sia stato veramente un fallimento, non ci si può nascondere. E poi ognuno ha le proprie sensibilità, però a mio parere io ho trovato piuttosto poco dignitoso che Spalletti non abbia rassegnato le dimissioni. Avrebbe dovuto farlo o Gravina avrebbe dovuto... Anche Gravina, ma soprattutto, cioè io ho anche il ricordo di altri fallimenti della nazionale italiana, ma se vogliamo anche partire dalla vecchia Corea, io ancora dovevo nascere, però la famosa Corea del 66, Fabri se ne andò. Anche Zoff comunque, per molto meno. Sì, ma poi i mondiali del 74 in Germania, Valcareggi con tutto che quattro anni prima era arrivato in finale, comunque anche lui è andato via. Quando Berzot nel 1986, con la squadra che era campione del mondo, ha perso negli ottavi poi contro la Francia di Platini, quindi non contro una squadretta, comunque si è dimesso. Vicini quando non è riuscito a centrare la qualificazione agli europei, quindi abbiamo tantissimi esempi. E come mai, secondo te? Non so, lì penso ci siano anche considerazioni personali, forse lui avrà anche voglia di una rivincita, poi saranno questioni anche di contratto, però io ho trovato poco dignitoso, perché io non credo che un'eliminazione negli ottavi di finale debba per forza implicare delle dimissioni, ma un'eliminazione in questo modo, cioè in cui c'è una squadra, la Svizzera, che se uno va a guardare tutti i giocatori, anche su Transfer Market, per dire, il valore è inferiore a quello degli italiani e noi sembravamo una squadra in balia dell'avversario, quindi onestamente io avrei preferito un cambio di CT anche per non affrontare le qualificazioni dei mondiali, cioè per i mondiali con un CT che ora è molto anche divisivo, ci sono molti italiani che non lo vorrebbero più vedere su quella panchina. Potrebbe essere in viso anche nello spogliatoio? Allora, Spalletti è stato sempre uno un po' divisivo, fra l'altro io sono di Roma, quindi ho seguito tutta la sua vicenda. Esatto, come lui ha gestito la vicenda Totti quell'ultimo anno è stato, secondo me, una cosa non molto rispettosa di ciò che Francesco Totti significava per Roma e per la Roma, però queste sono scelte che comunque fa l'allenatore, fra l'altro quel campionato non è che fece male Spalletti, io penso che lui sia un allenatore tatticamente molto capace, credo però che non sia bravo in un altro aspetto che è molto importante del fare l'allenatore che è la gestione del gruppo, la gestione dell'ambiente, perché lui è sempre stato uno che per esempio in conferenza stampa è polemico, se la prende a volte con i giornalisti, a volte con i propri giocatori, a me piacciono magari tecnici che fanno più quadrato con tutta la squadra, formano il gruppo come fu il maestro Berzotti in questo. Chi vedresti bene in un mondo parallelo dove non c'è più Spalletti? Sì, ne abbiamo liberi in questo momento, io penso che due che andrebbero molto bene, uno è Allegri, che intanto è un allenatore molto sottovalutato rispetto a quanto ha vinto e quanto è capace. Certo non gli fa gioco tutta quella sceneggiata pazzesca che ha fatto con la sua ultima partita con la Juventus, però è un allenatore molto bravo che in questo momento è libero. L'altro che vedrei benissimo anche dal punto di vista del mettere tutta l'Italia insieme è Claudio Ranieri. Dice che se rimetterebbe, sempre stiamo ragionando di fantasia, si rimetterebbe in gioco a questo livello? Questo lo ha detto anche lui, lui ha detto che il Cagliari sarebbe stata la sua ultima squadra di club, ma che se venisse chiamato da una nazionale, figuriamoci la nazionale italiana. Ma ho visto che anche in rete, sui social ci sono stati molti gruppi anche di tifosi di varie squadre che hanno fatto questa proposta di mettere Ranieri, probabilmente come elemento che unisce. Unitivo diciamo. Non vedrei bene altri cosiddetti giochisti, come per esempio uno come Sarri, io non lo vedrei molto bene alla nazionale, lo vedrei bene in un club, perché è uno che deve un po' inculcare ai giocatori il proprio gioco, il nazionale non si ha molto tempo, e quindi un gestore di giocatori, uno capace a lavorare con quello che ha, fare di necessità virtù, cioè Allegri e Ranieri sono più adatti. Comunque tutto questo poi mi auguro che Spalletti vada a vincere i mondiali, insomma. Eh beh, questo è normale, come si suol dire l'importante, il bene poi della nostra nazionale. Io avrei, già quando lo hanno scelto, onestamente io, non è che fossi proprio entusiasta di questa scelta, è proprio per i motivi che ho detto, che è una persona che spesso spacca un po' l'ambiente, però avendo fatto così bene con il Napoli, se la meritava pure questa chance. Sì, sempre che poi diciamo una serie di circostanze astrali anche che hanno favorito quel fenomeno che è stato il Napoli di quella stagione incredibile. Sì, io mi sono reso conto pure di questo, che io trovo che Spalletti sia molto bravo quando ha una squadra in grado di dominare, ma molto meno bravo quando ha una squadra che deve lottare. Deve subire un po' anche, ecco, diciamo. Comunque, pagina Italia, la lasciamo un attimo lì. Parliamo un po' delle altre nazionali, un po' di queste diverse scuole calcistiche, approcci e quant'altro che abbiamo visto applicate agli europei. Allora, innanzitutto, gli europei erano palesemente divisi tra quelle 6-7 nazionali in grado di andare fino in fondo, che hanno cercato di imporre il proprio gioco, e le altre. E devo dire che molto spesso mi sono piaciute più le altre. Faccio un esempio, mi è piaciuta tantissimo la Turchia di Montella, una squadra capace di ribaltare il fronte in contropiede molto velocemente, di essere molto ben organizzata in difesa. C'è anche dei bei giocatori, comunque, diciamo. Anche dei bei giocatori, però se guardiamo, per esempio, un altro esempio, sempre con un allenatore italiano, cioè Calzona, la Slovacchia è andata a un millimetro da eliminare l'Inghilterra. E se non ci fosse stata la rovesciata di Bellingham al 94esimo, l'Inghilterra sarebbe stata eliminata già negli ottavi. E la Slovacchia ha dei giocatori sostanzialmente modesti rispetto agli standard delle squadre più grandi, però con grande organizzazione, grande determinazione e grande umiltà è riuscita a veramente stupire, perché arrivare comunque alla pari con l'Inghilterra fino all'ultimo vuol dire che stai facendo un buon lavoro. E vedo che queste squadre piccole che non devono pensare solo al possesso di palla, che secondo me è la malattia del calcio moderno, è una cosa che spesso annoia da morire, perché il possesso palla mirato per fare combinazioni veloci e andare al gol, come per esempio spesso fa la Spagna o in alcuni momenti anche l'Inghilterra con i giocatori funambolici che hanno queste squadre, allora può essere un bel calcio, fra l'altro l'Inghilterra per lunghi tratti dell'Europeo ha fatto un calcio lento e un po' noioso. Però queste squadre, allora se si riesce a fare un gioco di possesso ma in velocità in verticale è divertente. Io una cosa che detesto del calcio moderno è quella che io chiamo la circunnavigazione dell'area di rigore, cioè le squadre arrivano e cominciano ad andare da un lato, da un altro, al centro, ecco mi è capitato di vedere spesso squadre che in quattro passaggi di prima molto bene arrivano, ribaltano il fronte e a quel punto si trova magari l'ala di fronte al difensore avversario e invece di puntarlo la paura di perdere il possesso porta a fare il passaggio indietro e si ricomincia questa orribile circunnavigazione dell'area di rigore e quando si perde tutto il vantaggio che si era acquisito nel ribaltare il fronte, cioè a quel punto è meglio rischiarla sull'uno contro uno. Io vedo che nel calcio di adesso è stato quasi eliminato il tiro dalla distanza, non ci sono quasi più punizioni dal limite perché il dribbling si fa solo sull'esterno, nessuno fa mai la finta, se non in quelle azioni molto concitate di appunto quando si fanno combinazioni veloci e quindi lo spettacolo ne risente, infatti io credo che rispetto ai mondiali del Qatar lo spettacolo sia stato molto deludente. L'unica differenza che hai notato è questa, ce ne sono state altre rispetto ai mondiali in Qatar? Allora, intanto dico una cosa che non ho detto prima rispetto, visto che parlavamo delle squadre, che a me una delle squadre che mi sono piaciute di più, forse quella che mi è piaciuta di più, in realtà era la Germania. Ah, perché la Germania ha fatto un gioco, ha cercato sempre di imporre il proprio gioco, ma lo ha fatto non disdegnando mai la giocata in verticale, la velocità e mi connetto con la domanda che hai appena fatto perché io ho una cosa che ho trovato molto cambiata rispetto al Qatar e molto negativamente, sono stati gli arbitraggi. Non ti sono piaciuti? No, il caso di Germania-Spagna è un caso eclatante perché poi ha eliminato la nazione ospitante, è una squadra che stava comunque facendo un ottimo calcio, poi comunque onora la Spagna che ha fatto un bellissimo europeo, ha anche messo in mostra un bel gioco, dei grandissimi giocatori, fenomeni vista l'età, insomma se pensiamo a Yamal, ma insomma anche altri, però per me l'assurdità è che il VAR non sia stato utilizzato come poteva essere utilizzato, è stato utilizzato con il contagocce, cioè si è tornati un po' all'antico, cioè l'arbitro decide, poi il VAR se è proprio una cosa macroscopica o forse neanche visto il caso di Germania-Spagna non interviene, vale la decisione sul campo. E un altro aspetto degli arbitraggi che non mi è piaciuto affatto sono i recuperi, perché in Qatar si era andato, si era andati finalmente verso il tempo effettivo, che è una cosa che ci siamo dimenticati ormai. Io introdurrei subito nel calcio, perché non vedo controindicazioni, se uno fa 35 minuti a tempo, 30 minuti a tempo, ma come la palla esce fuori o si ferma il gioco, come nella palla canestro il gioco si ferma, non servirebbe più a nulla fare le sceneggiate, metterci un'ora a battere il fallo laterale, oppure buttarsi a terra e stare quattro ore nella speranza che si guadagna qualche secondo. Tutto questo che è molto nocivo per il calcio sarebbe... E per lo spettacolo. Esatto. Perché poi anche quello... E in Qatar si era andati in quella direzione, perché ce ne sono stati questi recuperi molto lunghi, 10 minuti, 12 minuti, 8 minuti. Qui siamo tornati a vedere addirittura 2 minuti, 3 minuti, ed è un incoraggiamento alle perdite di tempo, le sceneggiate. E giocare comunque un po' scorrettamente col cronometro. E lì secondo te c'è una regia comunque che vuole questo in qualche modo? Beh, so che c'erano delle indicazioni precise, perché io quando ho cominciato a vedere quest'andazzo in questi europei, sono andato a cercarmelo e ho visto che gli arbitri avevano avuto delle indicazioni che dicevano innanzitutto mai in assoluto più di 10 minuti, cosa che di per sé è anche sbagliata, perché se in una partita si perde un quarto d'ora, comunque non si capisce perché ci debba essere un limite, ma comunque 10 minuti sarebbero tanti. Ma poi si è detto che bisogna chiudere la partita in, mi pare, in due ore totali. E questo con l'intervallo, con le varie cose che succedono, rischia che poi il recupero sia insufficiente rispetto a quanto si dovrebbe realmente recuperare. Ed è anche, secondo me, ingiusto nei confronti della squadra che sta perdendo in quel momento, perché... Quindi hai notato queste differenze tra i mondiali catare e gli europei, sostanzialmente? Beh, sui recuperi la differenza è stata enorme. Enorme, sì. Poi ecco, anche qui ho visto questa tolleranza zero per le proteste un po' eccessiva, che la capirei se poi vengono puniti severamente anche i falli gravi, cosa che è un po' relativa. Insomma, questi sono gli aspetti che mi hanno colpito di più. Un'involuzione in termini anche di gioco, perché per esempio ai mondiali ci sono state squadre come la squadra campione del mondo, l'Argentina, che ha veramente portato un calcio superoffensivo. Penso che la finale con la Francia sia stata una delle più belle di tutti i tempi. e invece forse noi europei siamo sempre un po' più difensivisti, un po' più calcolatori, però ecco, mi sono divertito di meno. Di meno, assoluto come spettacolo, diciamo, come... Sì. Meno offensività in questo senso proprio. Sì, appunto, alcune squadre l'hanno data di più, la Spagna, la Germania, un po' l'Inghilterra. Anche la Francia è stata molto deludente, soprattutto... Soprattutto un bapè, se vogliamo andare a vedere nella fattispecie, poi proprio... Ma anche altri giocatori sono stati un po' al di sotto. Sono rimasto a vedere, non so, c'era Dembele, un giocatore che ai mondiali mi aveva fatto impazzire, è stato un po' così. Sì, in tutti questi baby fenomeni, forse al calcio italiano manca un po' questo investire nei giovanissimi? Sì, è una cosa che si dice da tanto tempo. Sicuramente è vera, perché pochi allenatori italiani si fidano dei giovanissimi. Ed è un problema, indubbiamente, perché sono pochi i giocatori che cominciano a giocare da minorenni, però quando lo fanno poi diventano grandi giocatori, perché faccio due esempi, uno è Donna Rumma e uno è Barella. Barella è esordito a 17 anni, era già bravissimo, aveva fatto tutta la trafila con le nazionali, essendo sempre più piccolo rispetto alla nazionale in cui stava, però poi è diventato un pilastro della nazionale maggiore. Però se non ci fosse stato qualche tecnico che lo faceva esordire a 17, 18, 19, purtroppo si fa poco. In Germania avevano fatto dal 2000 tutto un grande programma, dopo che avevano fallito all'europeo, tutto un grande programma di scouting dei giovani, finanziato, ben organizzato e forse è qualcosa che dovremmo fare anche noi. Ma purtroppo in Italia, questo è un discorso inerente alla politica, però le azioni a lungo termine, che sono quelle che poi danno benefici più duraturi, non si fanno tanto. Noi siamo per le soluzioni rapide che devono poi dare il consenso che permette... Si sa, è così. Va bene. Purtroppo sì. Grazie per essere stato con noi, Gian Piero D'Andresca. Ma grazie a voi. È un piacere, è bello poter parlare davvero con persone che sanno così, di calcio in questo caso naturalmente, e poi in generale sapete che cerchiamo sempre di coinvolgere persone molto esperte nel loro ambito. Vi invito a continuare a seguire non solo il 410 Digitale Terrestre, ma la nostra rivista, anche online, anche su nostro sito ilmondorivista.it. Grazie, alla prossima qui al Mondo Incontro. Grazie a tutti.